Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, secondo episodio del nostro progetto Dollar Cost Average contro altre strategie. Oggi andiamo a vedere, ho già fatto le operazioni, ragazzi, adesso ve le faccio vedere. Volevo indicarvi una serie di cose, intanto chiarirvi una serie di punti. Poi volevo dare il benvenuto a chi si è iscritto al canale, a tutti quelli che ancora non sono iscritti, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, per seguire questo progetto, questo super video, questo progetto grande di valutare la Dollar Cost Average, questa strategia di investimento e vedere un po', effettivamente, mettendola sul piatto, che cosa combina davvero, ragazzi, perché andiamo a vedere se noi effettivamente otteniamo dei benefici, dove, come, quando funziona, pro e contro, vantaggi e svantaggi. E lo facciamo per sei settimane. Settimana scorsa abbiamo iniziato, oggi vi svelo una serie di news relativamente alla Dollar Cost Average, a questo progetto, contro quali strategie sta lavorando, ragazzi. Allora, sta lavorando contro me, cioè contro il trader, immaginiamola così, quindi strategia Dollar Cost Average, la strategia 1, la strategia 2 sarà seguita da me come trader, deciderò io se, quando e dove, come e quando fare l'operazione e vediamo se vince lei o vinco io, vediamo un po' quello che succederà, non lo so, ragazzi. Come sempre sono dei video fatti apposta, insomma, dal punto di vista formativo, ma la terza strategia ve la svelo oggi, ragazzi, ve l'avevo già accennata l'altra volta, ve la risvelo oggi e andremo poi a fare anche un punto della situazione, ho registrato, c'è altri video, la terza strategia è questa qui, ragazzi, ok? E questa qui non vi dice assolutamente niente perché è una strategia che fa questo, ragazzi, e decide se investe o meno. Quindi se esce Bitcoin dice sì, ok, investiamo, se esce invece questo, che vedete qui, questo, il microchip, dice no, io non investo. Allora, in sostanza, questa è una strategia randomica, ragazzi, la strategia random è la terza strategia, che la settimana scorsa non ha fatto investimenti. Mentre questa settimana, sì, ragazzi, ha investito due quote, perché ho tirato la moneta e ha detto sì, possiamo investire. Quindi la dollar cost average la stiamo mettendo a confronto con due tipologie di strategie diverse. Quindi uno dollar cost average, strategia numero due, sono io che faccio il trader, strategia numero tre, il lancio della moneta. Andiamo a vedere quello che è successo perché ho già fatto l'acquisto, ragazzi. Ok, vi abbasso qui, andiamo a vedere il paper trading. Allora, la strategia numero uno, la dollar cost average è questa qui che vedete, Ah, scusate, ragazzi, una piccola, diciamo, un piccolo, un piccolo asterisco. La scorsa settimana ho sbagliato a inserire uno zero, molti di voi me l'hanno fatto notare perché era il block number purtroppo disattivato, quindi non mi ha preso la virgola, perciò in sostanza andrò a investire 2000 dollari su ognuno, invece che 200, ma sono finti, ragazzi, quindi è un paper trading, non è un problema. Ma è la stessa cosa, voi tutto quello che vedete qui viene diviso per 10, ragazzi, in sostanza non cambia niente. Ok, quindi è tutto qui. Allora, dollar cost average è questa qui, la Bitfinex dollar cost average, perché viene eseguita su Bitfinex. 047 è stato l'acquisto di oggi, come l'ho ottenuto, ragazzi? Ho preso la mia calcolatrice, ho messo 2000 dollari in questo caso, ma chi la sta seguendo davvero, a parte insomma i classici disclaimer di rischio, che sapete bene, io ho sconsigliato di fare, sarebbero 200, ragazzi, io faccio 2000 perché se no non mi viene più il conto, diviso 83 e 30, più o meno, 0,24. Quindi abbiamo aggiunto 0,24 alla posizione aperta la scorsa settimana, che era 0,23, e siamo andati a 0,47, oppure chi la fa corretta, 0,047, ragazzi, va bene, non mi ripeterò, dividete per 10 queste cose qui. Si è abbassato il nostro prezzo medio di carico, ragazzi, era 8.600 e qualcosa, è diventato 8.500, ma stiamo perdendo, stiamo perdendo 80 dollari, oppure 8 dollari, se avete fatto quella corretta. Perché questo, ragazzi? Perché il bitcoin è sceso dalla settimana scorsa, quindi la dollar cost average ci ha fatto comprare a un prezzo troppo alto, siccome la strategia che non guarda i grafici, non guarda se era giusto il momento, quindi non guarda in sostanza il timing, abbiamo comprato un po' alla cieca, e in pratica stiamo perdendo, stiamo perdendo intorno all'1%, circa, eravamo andati anche in gain, adesso stiamo perdendo. Però abbiamo comprato a un prezzo più basso. Abbiamo comprato a un prezzo più basso adesso, quindi abbiamo mediato. Però, ragazzi, cosa succede in questo caso? Già qua è visibile il discorso, che se il bitcoin da qui in poi torna a salire, a questo punto noi riduciamo velocemente questa perdita. Ma se torna a scendere, ma se continua, scusate, a scendere, cosa succede? Cioè, se continua a scendere, noi abbiamo con la dollar cost average raddoppiato la posta. Quindi, raddoppiato la posta in questo caso, beh, insomma, bisogna stare attenti, perché adesso in poi si perde un po' di più. Quindi, se bitcoin continua a scendere, noi andiamo a perdere un po' di più. Questo è già il primo grande problema della dollar cost average, soprattutto nelle prime parti. Poi ne vedremo un altro, ragazzi. Quindi, allora, abbiamo abbassato il prezzo medio di carico di 100, scusate, 30 dollari circa. Abbiamo però raddoppiato la posta. Quella che vedete, invece, qui su Bitstamp, la strategia del lancio della moneta, ragazzi. Quella simpatica, randomica, che è entrata oggi con due quote, investendo 0,48, è riuscita a comprare più bitcoin, ragazzi. Perché? Perché ne ha comprati di più? Perché, semplicemente, è entrata a un prezzo più basso. E quindi, rispetto alla dollar cost average che ci ha fatto comprare meno bitcoin, perché siamo in perdita di un pochino, quindi, insomma, di questo 0.01, con la stessa quantità di denaro sono riuscito a comprare più bitcoin con il lancio della moneta. Ok? Abbiamo ancora quattro step da fare, mentre io, per quanto riguarda la mia strategia personale, non sono entrato. Vi faccio anche vedere quelli che sono i livelli che ho deciso di utilizzare per entrare, ragazzi. Allora, questa area qui, ve la metto più vicino al grafico attuale, va benissimo. Quindi, tra gli 8.000 dollari circa e questa fascia qui giù che sono 7.900, se ci arriva, ragazzi, oppure alla rottura di questa trendline. Inizierò la mia struttura di ingresso in questo mercato. Questo è un grafico a 12 ore, quindi, semplicemente, un po' più veloce del day, dei ragazzi. Tutto qui. Benissimo. Quindi, abbiamo definito in sitesi quello che stanno facendo queste strategie. Io non sono ancora entrato in strategia numero 2 del trader è flat. Strategia numero 1, quella della dollar cost average, è in perdita. La strategia numero 3, il lancio della voleta. In questo momento vince, ragazzi, perché... No, ok, va bene. Sta perdendo un dollaro. Va bene. Ok, è entrata oggi. Benissimo. Per oggi è tutto. Noi ci rivediamo domani con il prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.